Fano sotto shock per il ritrovamento senza vita dei coniugi Ricci avvenuto questa mattina. Marito e moglie pensionati vittime di un duplice omicidio all'interno della loro abitazione di via Fanella 127. Giuseppe Ricci, 75 anni, conosciuto ai più come Giorgio, è stato trovato esanime con lesioni fatali alla testa procurate da un corpo contundente. La moglie, Luisa Marconi, 70 anni, è stata invece ritrovata con evidenti segni di soffocamento. È stata presto esclusa l'ipotesi di omicidio-suicidio. Il quadro che si è delineato agli inquirenti ha circoscritto le morti ad atti di violenza procurati da una terza persona. Soprattutto il corpo di Giuseppe Ricci mostrava indizi di una colluttazione con un aggressore. A dare l'allarme questa mattina è stato il figlio della coppia, Luca Ricci, che ha allertato i vigili del fuoco per forzare alla porta dell'abitazione dei genitori che non rispondevano alle sue telefonate. Alle 7.30 di mattina l'ingresso in casa, la macabra scoperta e l'allerta a polizie e carabinieri intervenuti sul posto con una scientifica, squadra mobile di Pesaro e commissariato di Fano. Sul posto, oltre ai dirigenti di polizia Paolo Badiogli e Stefano Seretti, anche il capo della procura, Maria Letizia Fucci, che sta coordinando le indagini. La casa è stata trovata a soccuadro, ma non sembrano emersi segni di effrazione alla porta. Il figlio della coppia, 50 anni, separato e padre di due figli, è residente al piano superiore della palazzina. Si è da subito dichiarato estrano ai fatti, ma è stato sottoposto a interrogatorio, a perquisizione domiciliare e al prelievo del DNA. Il particolare che è emerso è che la casa in questione era stata venduta all'asta lo scorso settembre e che proprio oggi ci sarebbe dovuto essere un incontro col nuovo proprietario per perfezionare la cessione dell'immobile. Si indaga su una presunta storia di debiti dello stesso figlio Luca alla base della vendita dell'appartamento.